Non puoi passare Non è coglione Now say my name Bene ragazzi siamo i gravi Stiamo con un nuovo episodio di Draw the Pokemon Disegna il Pokemon Basta Porco sui No bro Carò mia Che botta E quindi siamo tornati con un nuovo episodio Vabbè vai Siamo tornati con un nuovo episodio di Draw the Pokemon Quindi non perdiamo tempo Vai Cito Allora Non sta a venire bene Sì infatti Devi fare una cosa importante Vabbè sta a venire bene Non avviene bene Ecco eh Ora arriva il pezzo forte E profiterò Sì Non so che fare tutto Non è quello che è Cioè quello che in realtà dovrebbe essere Vai vai così va bene Sì sì Dovi fare Lo spermino qua sulla bocca Bello È fighissimo Sì è venuto benissimo E lui è Gloom 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 È figo dai Mamma mia figo questo Sì sì questo è bello vero In pratica In poche parole È così Poche parole Gli ha dato un indizio A me va bene Così È veramente buio Ma che è Ma che non si capisce Calcola così Sì si capisce No mo si Questa è Roccia Music Roccia Music Vabbè dai Se sa Se capisce Ta 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 Lui è Mi ha coperto per tutto il tempo del video No stavo così No io stavo così Vabbè Lui è golem Bam Penso che sia il pokemon più figo Che abbia mai avuto nel mio pokédex Perché ero Cazzo Ero riuscito ad averlo Allora questo è difficissimo Questo si è abbastanza tosto Però è che mi è venuto bene Mazzà A parte quel fiocco Ciao fiocco Eh vabbè Mmm va bene Questa è una mano Questa è una zampa Questa è un'altra zampa Io so' fa solo bene So' fa solo l'occhio Questo è un altro Carlo Stai fa bene Sono l'occhio L'ha detto Vabbè qui c'è una zanna Non si capisce in cazzo Novo pokemon Non si capisce Oh problem Mamma mia Eh dovrebbe essere una nitorina Però non è riuscito No No Io ti segno quella sinistra adesso Guarda questo quanto hai fatto bene Eh io so questo quanto hai fatto bene Vai vai Cadroia Eh Porca cadroia davvero Ah io me lo gusto proprio Diciamo che Più o meno Sì è una lampada da tavolo No no tranquillo guarda Sta riuscendo piano 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 Ma che è Sta zitto sta zitto Giusto il tocco di grigio c'è stava Perché c'è Questo Ma che è un microciobraccate E' un orso Ma che è un microciobraccate No 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 Era growlite Però fa un po' scherissimo Ha fatto un incidente S'è rotto una gamba Diciamo anche un braccio Si è rotto Proprio a me si può capire Eh vabbè Non è difficile Guarda Ok ce la possiamo fa Ma io mi chiedo No poi Vabbè che Si è capito il po' come no Non si è capito Non si è capito il cazzo Vabbè Oggi proprio non siamo invene di disegno Questa era pre-map Ma una cosa Perché hanno fatto il naso da maiale E' la scimmia Ma perché secondo te le scimmie C'hanno i braccialetti Si C'hanno i libomitti Però il naso da maiale no Vabbè Che ne sai perché C'è chi si mette il naso da clown Si può metter il naso da maiale Bella Dezio Però ti stanno scelto i pochamon facili Si si Facilissimo Molto facile Bello Ma questo Giotto mi ha fatto bene Si per sbriare Ah ce l'ho ragione Questo è un corno Questo pure Questa è una bocca sorridente E questo è un occhio L'altro occhio non lo faccio Dicevo che il pochamon venuto meglio fina d'oggi Si fina d'ora Mi fa cagare pure questo E' del Iron Oh Bello Ma questo era proprio bello bello E' fatto abbastanza easy Vabbè Sì con qualche idea Ok Così Vabbè comunque è venuto veramente male No non è vero E' quello che ho cambiato la mente del bravo E' quello che è C'è i pettorali Perché lui è muscoloso E' Lui è E' bellezza Ma ciò che è Mamma mia Vabbè PINUS Io non so Figo questo Cazzo però Dai questo è facile Ma quale è facile Facile è facile del gitto Perfetti complimenti da te Eh intanto io le prospettive le so fatte E' quello braccio non si sa come Mi sa maggiore Vabbè perché c'ho più spazio per farlo dai Questo già da fatto che è giallo Se capisci chi è No dovrebbe capire questa cazzata qua Non fa un cazzo Fai solo quello Aspetta Sbrigati Non cazzo Ok Ok Questo è un petolo Era Mamma mia Comunque con questo pokemon Ci possiamo salutare E beccati al prossimo video Speriamo sempre dei pokemon 2000 like Se vi è piaciuto Noi ci becca al prossimo video Bella Bella Noi ci beccati al prossimo video Noi ci beccati al prossimo video Ciao 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 Ciao